Oroscopo del giorno, mercoledì 28 agosto 2024 Ariete Amore Oggi potresti trovare nuove connessioni che risvegliano il cuore Lavoro I tuoi sforzi iniziano a dare i loro frutti, continua su questa strada Toro Amore Un chiarimento importante potrebbe riportare armonia nella coppia Lavoro Attenzione a non lasciarti travolgere dalle richieste altrui Gemelli Amore La tua curiosità ti porta a scoprire qualcosa di inaspettato su chi ami Lavoro Non temere di prendere iniziative coraggiose, i risultati saranno positivi Cancro Amore Un gesto romantico può riaccendere la fiamma con il partner Lavoro Le tue emozioni influenzano la tua produttività, cerca equilibrio Leone Amore Oggi la tua carica magnetica attira attenzioni speciali Lavoro I riconoscimenti professionali non tardano ad arrivare, mantieni il focus Vergine Amore Le relazioni richiedono un po' di comprensione in più oggi Lavoro Organizza meglio le tue priorità, il successo è vicino Bilancia Amore L'armonia torna nella coppia grazie a un dialogo sincero Lavoro Una collaborazione può aprire nuove porte professionali Scorpione Amore Un incontro inaspettato potrebbe scuotere le tue emozioni Lavoro Non sottovalutare i dettagli, possono fare la differenza Sagittario Amore Il desiderio di avventura rende la giornata speciale in amore Lavoro È il momento di esplorare nuove opportunità di crescita Capricorno Amore La stabilità sentimentale oggi ti offre serenità e sicurezza Lavoro La tua determinazione apre la strada a importanti avanzamenti Acquario Amore Un cambiamento improvviso può portare freschezza alla tua relazione Lavoro Idee innovative ti permettono di fare un passo avanti decisivo Pesci Amore Sensibilità e dolcezza guidano le tue interazioni amorose oggi Lavoro Mantieni alta la concentrazione per evitare distrazioni sul lavoro Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti